benvenuti a museo segreto il nuovo podcast ideato da museo city realizzato grazie al supporto di mumac museo della macchina per caffè di gruppo cimbali in occasione della manifestazione milano museo city 2021 le voci di chiara serangeli e l'aposintoni vi accompagneranno in una passeggiata immaginaria per le strade di milano alla scoperta delle sue istituzioni culturali